Puntata speciale in versione estiva ieri sera per Agorà. Il rotocalco settimanale della nostra emittente, che la settimana scorsa aveva chiuso la sua ottava edizione classica, si è concesso una finestra extra. Realizzata in esterna nella splendida cornice dei giardini del Palazzo dei Benedettini, la trasmissione di punta del palinzesto di Canale 10 ha approfittato della presenza in città in questi giorni di cattedratici, assistenti e studenti dell'Università Tecnica di Berlino che stanno lavorando su una idea progettuale di cambiamento del tessuto economico della nostra città. Una Gela che guardi oltre la sua sessantennale esperienza industriale e sia capace di riconvertirsi secondo canoni che, utilizzando le immense risorse che questo territorio offre, possano permettere ai Gelesi di costruirsi un futuro migliore rispetto all'attuale asfittico presente. La prestigiosa Università tedesca ha già realizzato un libro che spiega come Gela dovrebbe modificare il suo status per regalarsi prospettive più consone alle enormi potenzialità che sono presenti in questa terra ed in questa comunità. E loro, professori universitari, assistenti e studenti, peraltro le migliori eccellenze dell'Ateneo berlinese provenienti da tutto il mondo, sono convinti che Gela non solo si può cambiare ma che proprio da qui, cioè dall'estremo lembo meridionale dell'Europa, possa nascere un laboratorio naturale che può diventare esempio fulgido per l'intero vecchio continente. Come detto, se ne è parlato ieri sera nel corso di questa straordinaria puntata speciale di Agora, andata in onda in esterna e con uno studio aperto nel quale si sono confrontati parecchi ospiti che in un turnover assai stuzzicante hanno dialogato con gli illustri universitari che sono in questi tre giorni presenti nella nostra città. A capitanare il gruppo dell'Università di Berlino l'emminente docente universitario Raoul Baumschoten, autore del progetto Gela Conscious City, che nel frattempo è già diventato un testo che si studia presso l'Università della Capitale tedesca. Con lui assistenti provenienti da tutto il mondo, tra le quali l'italiana Sara Busnardo, che nel corso della trasmissione di ieri sera si è anche improvvisata traduttrice simultanea dei vari intervenuti che provenivano da paesi come la Germania, il Portogallo, Taiwan, Cina, Ecuador, Inghilterra ed altri. Nello studio open dello speciale Agora anche gli amministratori del comune di Gela e quindi il sindaco Domenico Messinese, il vice sindaco Simone Siciliano e l'assessore Francesco Salinitro. Ed ancora l'onorevole Lillo Speziale, l'architetto Tonino Collura dell'Ufficio Europa, l'avvocato Salvatore Monreale dell'Associazione da terra e mezzo al mare, l'architetto Gaetano Russo di Shiplab e di giornalisti Nello Lombardo, vice direttore del Corriere di Gela, ed Andrea Turco di Meridion News. Chi volesse rivedere questa interessante puntata speciale di Agora potrà farlo con la replica integrale che andrà in onda domani sera a partire dalle ore 21 su Canale 10 o come sempre già nel primo pomeriggio di oggi sui nostri indirizzi social. In itinere sono già in cantiere altre puntate speciali estive di Agora.